Il sagno nella morsa del maltempo, la neve è caduta soprattutto in provincia ieri nella notte con le temperature scese sotto lo zero si è trasformata in pericoloso ghiaccio. In città l'Asia ha attivato con il comune di Benevento il piano di emergenza per intervenire in maniera precauzionale nelle zone e sulle strade che potrebbero presentare criticità alla viabilità. Numerosi anche gli smottamenti questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza una frana in contrada Montecalvo che ha compromesso la viabilità comunale. Chiusa al traffico invece al chilometro 5 in entrambi i sensi di marcia la strada provinciale 152 a scorrimento veloce Fondovalle-Vitulanese. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un esteso smottamento che interessa la carreggiata nei pressi del Capoline alla rotonda di Foglianise. Si è purtroppo rivelato inefficace un intervento di urgenza disposto nelle ore precedenti e i collegamenti da e per Benevento con Foglianise e con gli altri comuni della vallata sono assicurati dalla vecchia strada provinciale 153 che corre parallela a Mezzacosta alla Fondovalle-Vitulanese che sarà possibile imboccare all'altezza del bivio per Castelpoto. Criticità anche nel territorio di Sant'Agata dei Goti con il ghiaccio che nelle zone più alte come Laiano e Aria Sant'Omaso, Cerrata, Traversano, Corvi, Cologna, Piscitella ha creato vari problemi.